Grazie a tutti. E' stato ritrovato stamani il 62enne, scomparso nel pomeriggio di ieri, si è tolto la vita in un ex supermercato alla periferia di San Martino in Pensilis. Una delegazione della Repubblica Croata domani ad Acquaviva con le croce per discutere di ecosistema marino e difesa delle coste adriatiche. A San Vincenzo al Volturno, al Via Gli Scavi 2018, si punta alla tutela e alla valorizzazione del sito molisano attraverso collaborazioni ed impegno. Ben trovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Pesco Lanciano dice categoricamente no all'accoglienza dei migranti. Sulla possibilità di destinare alcuni richiedenti asilo nel piccolo centro si sono espressi i cittadini convocati dal sindaco Manolo Sacco. L'amministrazione comunale accogliendo la velata richiesta di collaborazione proveniente dal Ministero dell'Interno, si è detta disponibile a valutare la sola possibilità di ospitare minori non accompagnati. Intanto in Paese resta in piedi la discussione e non si escludono azioni eclatanti qualora dovesse arrivare l'imposizione dall'alto. È stato di agitazione dei dipendenti della ditta De Francesco Costruzioni di Castelpetroso per il mancato pagamento di oltre quattro mensilità. La protesta dei lavoratori sostenuti dalle organizzazioni sindacali è scattata dinanzi la sede dell'azienda e continuerà ad oltranza sino alla risoluzione del problema. Gli stessi sindacati pronti a chiedere un tavolo presso le prefetture di Isernia e Campobasso. Nel corso della presentazione delle linee programmatiche del nuovo governo, il Presidente della Regione Donato Toma ha annunciato importanti novità in materia di sanità, acqua, protezione civile e costi della politica. Tutti i dettagli in questo servizio. Con una relazione di 53 pagine, il Presidente Donato Toma ha presentato in Consiglio regionale le linee programmatiche che caratterizzeranno l'azione del nuovo governo e della maggioranza. Dalla lettura del programma di intenti emerge con evidenza una netta rottura rispetto al passato in relazione a quattro temi fondamentali, sanità, acqua, protezione civile e costi della politica. In tema di sanità, la rivoluzione copernicana del settore che occupa il 75% del bilancio della Regione ruota intorno a un obiettivo fondamentale, il superamento del decreto Balduzzi in funzione della riorganizzazione del sistema che garantisca l'attivazione di un DEA di secondo livello per Regione indipendentemente dal numero di abitanti. L'istituzione inoltre di un polo clinico universitario a Campobasso, la conservazione degli attuali quattro poli ospedalieri in grado di assicurare un'adeguata offerta sanitaria, la riduzione dei tempi di attesa, il potenziamento del personale di pronto soccorso RSA. In tema di gestione dell'acqua, l'intento è quello di preservare la governance pubblica del settore e ridurre gli sprechi, tenuto conto che il Molise si attesta oggi al 47,7% di perdite d'acqua a causa delle cattive condizioni della rete, il secondo peggior dato dopo quello della Sardegna. L'obiettivo del Presidente Toma è anche quello di rivedere tutti gli accordi con le regioni confinanti che ricevono dal Molise la risorsa idrica allo scopo di assicurare ulteriori risorse finanziarie per attirare nuovi investimenti pubblici. Altro segnale di discontinuità rispetto al passato riguarda la riorganizzazione e il potenziamento del sistema regionale di protezione civile, al cui timone dovrebbe tornare, secondo indiscrezioni, l'architetto Giuseppe Gianrusso, colui che nel passato ha contribuito a rendere la protezione civile del Molise un sistema all'avanguardia a livello nazionale, prima della sua estromissione voluta e pretesa dall'ex governatore Paolo Frattura. A sorpresa Toma ha fatto riferimento anche alla riduzione dei costi della politica, il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, in particolare sui compensi dei consiglieri regionali l'idea del Presidente è quella di legare il contenimento della spesa alla produttività in funzione dell'introduzione di un sistema premiale di remunerazione dell'attività dei consiglieri e degli assessori. Piena condivisione rispetto alla relazione del Presidente Donato Toma è stata espressa da Eleonora Scuncio, consigliere regionale del gruppo Iorio per il Molise. Intendiamo dare il nostro contributo alla maggioranza, spiega in una nota la Scuncio, attraverso suggerimenti volti ad agevolare la ripresa partendo dal lavoro e dall'applicazione del decreto Madia in funzione della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione dell'Asrem. Un decreto, conclude la consigliera regionale, mai preso in considerazione in Molise, la cui applicazione è una questione di giustizia sociale. E a proposito di criticità rilevate nella relazione del Presidente Toma, attenzione particolare è stata riservata al turismo e all'agricoltura. Sentiamo al nostro microfono il parere del neoassessore al turismo Vincenzo Cotugno e la risposta al governatore del consigliere regionale Vittorino Facciolla. Intanto c'è stato l'assessorato al cultura e turismo, così come il Presidente Toma aveva detto in campagna elettorale. Stiamo facendo la ricognizione adesso dell'assessorato relativamente ai fondi e alle linee programmatiche esposte dal Presidente in Consiglio regionale. Si è sempre parlato di turismo, molto si è detto, forse poco si è fatto. Noi dobbiamo insistere molto di più, perché uno degli elementi trainanti di questa regione può essere proprio il turismo attraverso la valorizzazione delle nostre bellezze, della nostra storia, delle nostre tradizioni, ma soprattutto di quello che abbiamo, dell'ambiente. Il Parco Nazionale del Matese può essere una straordinaria occasione ed opportunità, c'è tanto da lavorare, soprattutto facendo sinergia con gli addetti ai lavori, con le istituzioni e con tutta la regione messa in rete. Io sono convinto che ci siano veramente tutte le condizioni per fare un gran bel lavoro. Sul Parco del Matese bisogna correre contro il tempo, entro il 30 giugno bisognerà nominare un ente parco, ma non c'è ancora la perimetrazione del parco, questo può essere un problema? Dobbiamo interloquire assolutamente con il Ministero, c'è stata la crisi di governo, ancora in soforma il governo, credo che quello sarà un termine che probabilmente slitterà di qualche mese, che ci consentirà insieme con la regione Campania di poter disegnare meglio la governanza dell'ente parco. Vittorio Facciolla, neo capogruppo del PD in Consiglio regionale, abbiamo ascoltato la relazione del Presidente Toma, in relazione anche al tema dell'agricoltura, è un tema che lei ha gestito, una questione che lei ha gestito fino a ieri, diciamo. Ecco, la criticità fondamentale è l'avanzamento della spesa, tema sul quale la Giunta e il Presidente si sono impegnati ad accelerare. Sì, ho ascoltato la relazione anche in relazione alla parte dell'agricoltura, l'ho trovata, utilizziamo un eufemismo non aggiornata, o non particolarmente aggiornata, sia in relazione all'incremento del biologico, che al 2013 era fermo a 1.000 ettri, adesso siamo ad oltre 10.000, in relazione al numero delle aziende bio, erano 130, adesso ne sono più di 400, sia all'avanzamento del programma di sviluppo rurale, l'impegno ha superato il 93%, è per la Spresa l'unica regione in Italia non a rischio di finanziamento, ma questo non lo dice Vittorio Facciolla, ma la rete rurale nazionale con un comunicato solo della settimana scorsa, così come il tema della coniugazione degli impegni tra agricoltura e ambiente, che ci ha visto addirittura, insieme all'Emilia Romagna, unica regione in Italia, aver approvato il piano regionale per la tutela dell'acqua, che ci ha consentito di poter utilizzare 27 milioni per il distesto idrico. Diciamo che la relazione di doma non è particolarmente aggiornata, ma avrà tempo anche per avere i numeri più pronti. Un uomo di 62 anni è stato trovato morto questa mattina alla periferia di San Martino in Pensilis a scoprire il cadavere e i militari dell'arma che lo stavano cercando dal pomeriggio di ieri, subito dopo la denuncia di scomparsa della famiglia. Impegnato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, i militari hanno prima trovato l'auto dell'uomo parcheggiata fuori un ex supermercato, poi all'interno la tragica scoperta del suicidio avvenuto per impiccagione. Il 62enne, sposato e residente a San Martino in Pensilis, lavorava come operatore ecologico ed era perciò molto conosciuto in paese. Al momento non si comprendono ancora le motivazioni del gesto estremo. E ancora disfunzioni sulle linee ferroviarie molisane, dove quotidianamente si riscontrano piccoli e grandi criticità in un sistema della mobilità che non sembra più essere adeguato ai tempi moderni. Non sappiamo più a cosa e a chi sono dovuti moltissimi momenti critici che riguardano il sistema della mobilità stradale e ferroviaria nella nostra regione, il Molise. Questa volta torniamo sui fatti e documentiamo un episodio che ha coinvolto molti viaggiatori del treno regionale numero 2302, partito da Napoli Centrale alle 19.30 di domenica 27 maggio, che sarebbe dovuto arrivare a Campobasso alle 22.27. In realtà i viaggiatori sono giunti a Campobasso oltre un'ora dopo, a bordo di un altro treno, quello proveniente da Roma Termini, il regionale 23.73 partito alle 20.35 ed è arrivato qualche minuto prima delle 23.38. Questa volta, a bordo del treno da Napoli, come è successo altre volte, c'era qualcuno che ha tirato fuori il cellulare per documentare in qualche modo il disagio patito dai tanti passeggeri, tra i quali un'intera scolaresca. Il mezzo di Trenitalia in effetti si è fermato improvvisamente all'interno di una galleria situata a poche decine di metri dalla stazione di Carpinone. Il macchinista non ha potuto far niente nell'immediato per uscire dalla galleria e giungere almeno nella più adeguata stazione. Infatti si è dovuto attendere che il motore trovasse un qualche raffreddamento, cosa che è avvenuta dopo una ventina di minuti abbondanti. Una situazione che ha portato una certa preoccupazione nei passeggeri che si sono ritrovati in una galleria senza telefoni funzionanti e senza certezze di risoluzione. Una volta arrivati alla stazione ferroviaria di Carpinone, intanto alcuni passeggeri si sono fatti venire a prendere da parenti e amici e per coloro che invece sono rimasti è stato consigliato dal personale delle ferrovie di attendere appunto il treno da Roma e proseguire su quello per raggiungere il capoluogo di Regione. Tutto documentato in qualche modo dal video del nostro passeggero che ha sentito l'esigenza e la necessità di informare su un disagio che a suo dire si ripete spesso e volentieri su questa linea ferroviaria. Intanto lungi da noi ogni volontà di criminalizzare chi che sia per una situazione che ci appare critica e che tanti passeggeri denunciano come fatti frequenti e ripetibili, però ci sembra magari inopportuno giustificare tutto e tutti magari prospettando con enfasi la prontezza di alcune iniziative solutive che nella realtà degli accadimenti risultano assolutamente insolute, perdurando costantemente una forte condizione di disagio delle linee e dei mezzi utilizzati. L'intervento dei vigili del fuoco questa mattina sulla Statale 87 dal motore di un autobus da poco partito da Campobasso e diretto nell'area Matesina è iniziato ad uscire del fumo. L'autista ha condotto il mezzo al di fuori della galleria che stava percorrendo ed ha fatto scendere i passeggiari impauriti, nessun ferito. I pompieri hanno provveduto a sedare il fumo sul posto anche i carabinieri. Ad Agnone il parroco di Aleppo, padre Ibrahim al-Sabag, per presentare il suo ultimo libro Viene il mattino. È stata l'occasione per parlare della tragedia legata alla guerra in Siria rispondendo ad alcune domande di don Alberto Conti della Caritas Diocesana di Trivento che ha organizzato l'incontro. Padre Ibrahim, parroco ad Aleppo, una città martoriata dalla guerra, una guerra che ha distrutto non solo case, chiese, ospedali, ma ha distrutto soprattutto il cuore della gente. Sì, sicuramente. Quello al quale assistiamo purtroppo ogni giorno è una città devastata, distrutta di 75% dal punto di vista della struttura, ma si tratta di una città distrutta dal punto di vista economico, ma si tratta di tante persone umane che sono distrutte già e morte dal di dentro con tante malattie psicologiche e anche spirituali. Qual è il vostro impegno, soprattutto nei confronti dei bambini? Vogliamo fare una nuova ricostruzione della persona umana, specialmente a questi angioletti sofferenti. Si può immaginare che in questi otto anni c'è tutta una generazione che ha conosciuto soltanto la guerra e che è piena di ferite profonde poi, che noi scopriamo, vediamo, ne vediamo i sintomi, ma non sappiamo molto delle sue profondità nei cuori di questi angioletti. E allora lì, attraverso i centri di doposcuola, attraverso l'assistenza di centinaia, se non anche di migliaia di bambini che vengono alle nostre chiese, che li incontriamo tante volte anche ogni giorno, ecco che cerchiamo di portare una vita nuova e una guarigione a questi bambini. La Caritas di Trivendo vi è stata vicina non solo con la preghiera, ma anche con una carità concreta. Sicuramente ricordo molto bene Natale 2015 e quando abbiamo la providenza divina proprio si è manifestata attraverso la Caritas Triventina e ne sono veramente grato e anche ringrazio il Signore per questa presenza della Caritas di Ocesana di Trivento. L'ultimo tuo libro, dal titolo Viene il mattino, ma è finita la notte in Siria? Viene il mattino dal punto di vista linguistico italiano, significa non è arrivato il mattino. Ancora siamo nella fase di attesa, ma come anche Un istante prima dell'alba, che è il primo libro che spiega un diario su quello che abbiamo vissuto ad Aleppo, abbiamo un'attesa, è vero, lunga, però piena di tanta speranza. Ed anche in Regione Abusso aprirà una sezione territoriale dell'Unione Nazionale Italiana reduci dalla Russia. A presiederla sarà la signora Carmela Picciano, da sempre impegnata nella ricerca della verità sulla scomparsa di suo zio Giovanni nella campagna di Russia. L'obiettivo è quello di riunire intorno all'associazione tutte quelle famiglie molisane che hanno perso un proprio congiunto durante i fatti della Seconda Guerra. Mondiale. Una delegazione della Repubblica Croata tornerà domani in Molise. Prima tappa della visita istituzionale ad Acquaviva con le croce e tra gli obiettivi comuni la preservazione dell'ecosistema marino e delle coste adriatiche. Il Molise e la sponda della Croazia tornano ad abbracciarsi e lo faranno domani nei quattro paesi della provincia di Campobasso dove la presenza delle minoranze balcane è ancora sentita a distanza di oltre cinque secoli dalla fuga dalle regioni d'origine per la pressione delle milizie ottomane alla fine del 1400. Il presidente della regione, Donato Toma, riceverà domattina ad Acquaviva con le croce Colinda Grabar e Citarović, massima espressione istituzionale della Repubblica. Quella di Acquaviva è la prima tappa del tour della delegazione d'oltremare nei paesi di origine croata che proseguirà a Tavenna, San Felice e Montemitro. Da sempre i rapporti tra Molise e Croazia sono stati caratterizzati da legami che coinvolgono le massime istituzioni e le amministrazioni del posto. È una rete che mette assieme sistemi produttivi, organizzazioni delle due sponde dell'Adriatico, rapporti diventati più frequenti da quando, 12 anni fa, è stata costituita l'Euroregione Adriatico Ionica. Circa 10 sono attualmente i progetti attivi che coinvolgono il Molise e i partner croati, attività comuni di governance, turismo, cultura, gestione dei rischi e della protezione civile, ambiente, trasporti e politiche del mare. Inoltre, il particolare rinievo assume ora la nuova strategia per la macroregione Adriatico Ionica, che ha come obiettivi il benessere economico e sociale della macroregione attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, il miglioramento della sua competitività, la preservazione dell'ambiente e la garanzia di ecosistemi marini e costieri equilibrati. domani alle 10.30 liceo artistico Benito Iacovitti di Via Corsica Termoli spazio alla premiazione della terza edizione del concorso Io promuovo il mio paese. La manifestazione vuole valorizzare a livello turistico le varie realtà molisane attraverso elaborati e video realizzati dai ragazzi delle scuole. Tutela e valorizzazione del sito di San Vincenzo al Volturno al Via la Campagna Scavi 2018 Sotto la direzione scientifica dell'Università Sororsola ben in casa di Napoli riprendono le indagini archeologiche al sito di San Vincenzo al Volturno. Alla Campagna di Scavo 2018 anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che dopo aver ospitato nella sua sede la grande mostra sui Longobardi ha scelto proprio il prestigioso sito molisano per sperimentare primo caso in Italia il coinvolgimento diretto di un grande museo statale all'interno di un progetto di ricerca archeologica sul campo. Su concessione rilasciata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali le indagini si svolgeranno in stretta sinergia sia con la soprintendenza del Molise che con il Polo Museale della Regione. Quest'anno noi proseguiamo in un'area dove abbiamo già operato negli scorsi anni cioè nell'area del Chiostro Centrale del Monastero dove stiamo indagando appunto le strutture di questo complesso intorno al quale si disponevano tutti gli edifici principali del monastero quindi è un'area cruciale dalla quale ci attendiamo risposte importanti rispetto a come il monastero era organizzato e quindi come funzionasse nel periodo di maggior splendore. Gli scavi sono sostenuti dall'Università Solorzola Benincasa di Napoli con il supporto importante del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Obiettivi dunque la tutela e la valorizzazione del sito in modo che le attività di ricerca possano essere coordinate e collegate virtuosamente. Le prime pagine più significative dei giornali nazionali e locali mostra l'ex GIL di Campobasso fino al prossimo 9 giugno ingresso gratuito alla esposizione aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 esclusa la domenica. Un pomeriggio al castello tra storia ed arte a Benafro una manifestazione suggestiva che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Giordano. Polo Museale del Molise scuole del territorio in stretta sinergia per promuovere storia e cultura. I ragazzi hanno valorizzato costumi d'epoca al castello Pandone di Benafro una iniziativa che si inserisce in un percorso di alternanza scuola-lavoro. Siamo tornati intorno al 1520-1530 come mi piace ricordare e proprio in luoghi come questo come il castello Pandone come il castello di Gambatesa in cui noi possiamo riconoscere davvero il rinascimento italiano non tanto nelle capitali non tanto a Roma non a Firenze come parrebbe ovvio però è proprio in luoghi apparentemente ma solo apparentemente più periferici come questi castelli in cui possiamo vedere quanto siano penetrati i simboli del rinascimento lo spirito della rinascenza credo che i ragazzi abbiano colto questo aspetto questa occasione è stato anche un momento di approfondimento per futuri progetti c'è una relazione molto forte con gli istituti scolastici di tutto il territorio credo che i giovani molisani conoscano bene il patrimonio artistico storico archeologico di questa meravigliosa regione anche perché è una regione che ha un'identità percepita molto molto forte e dobbiamo cercare di lavorare per farla percepire all'esterno oggi e domani appuntamento con la masterclass di Walter Santoro secondo incontro con la musica popolare programmato dal Conservatorio Perosi di Campobasso per l'anno 2017-2018 obiettivo far conoscere e sviluppare le tecniche base della musica tradizionale del sud Italia analizzando peculiarità stilistiche e timbriche e passiamo ora alle previsioni del tempo Tempo incerto e variabile oggi sul Molise con temporali pomeridiani sulle zone interne molto nuvoloso dalla sera le temperature sono comprese tra i 18 gradi di Campobasso e 27 la massima di Sernia ventilazione debole orientale poco mosso il mare Adriatico sulla regione domattina ancora possibili piovaschi sparsi valori climatici stazionari venti occidentali il campo basso calcio esce nella semifinale playoff battuto a Trivento per 2 a 0 stagione sportiva in ogni caso positiva quella appena chiusa in prima categoria Giovanni De Libero esce fuori dai playoff la sua squadra è il campo basso calcio ma possiamo dire che è uscita a testa alta avete giocato tenuto retto il campo fino al novantesimo è mancato qualcosa oltre la rete che cosa? Allora innanzitutto va premessa una cosa che gli obiettivi per tutte le squadre di questa categoria erano due o vincere il campionato o entrare nella griglia dei playoff dato che i playoff quest'anno anche se vengono vinti non danno la certezza matematica di accedere al campionato di promozione detto questo il nostro obiettivo è stato raggiunto centrando la griglia dei playoff dato che la società aveva questo fine sin dall'inizio della stagione e siamo arrivati a giocarci questi playoff contro una squadra molto forte che aveva fatto meglio di noi nella stagione regolare e nella partita odierna sinceramente non non si è vista la differenza di 10 passapunti che ci sono stati nell'anno regolare e in ogni caso soddisfatto della stagione della sua squadra? Noi siamo super soddisfatti di quello che abbiamo fatto anche perché durante l'anno abbiamo perso 10 elementi molto importanti perdendo quasi l'intera campagna acquisti e nessuno si aspettava di raggiungere la griglia dei playoff e noi ci siamo riusciti stringendoci come gruppo e facendo il nostro dovere fino alla fine Del campo basso calcio la prossima stagione cosa ne sarà? L'obiettivo come ho detto prima era quello di entrare nella griglia playoff per un possibile ripescaggio in promozione anche perché c'è un progetto che accompagna questa società per tutto il resto fin quando non ci sederemo attorno a un tavolo non posso dire nient'altro 9 istituti scolastici della regione Molise si sono affrontati oggi al campo Acli di Campobasso nella festa finale del progetto calcistico femminile denominato ragazze in gioco indirizzato alle scuole medie l'idea in ambito nazionale si fonda sul principio di promuovere il gioco del calcio tra le bambine favorendone la partecipazione attiva con la presenza di insegnanti e compagni di classe anche per l'edizione 2018 dei campionati regionali di pattinaggio corsa su strada la rollercoach Molise è stata protagonista a Pietrelcina in provincia di Benevento con 8 giovani pattinatrici un'esibizione che ha rappresentato un'occasione di confronto interregionale per verificare ciò che si è appreso in mesi di allenamenti e con questa notizia si chiude il nostro telegiornale vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento alle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti